Stiamo seguendo la giornata di Milano in vista dell'appuntamento con Conegliano domenica pomeriggio sui nostri canali su Sky Spartarena alle 17.30 ma andiamo con ordine perché questa è una giornata di lavoro Alessia, orro, ciao ben trovata io direi di partire da una cosa tu sei il capitano del vero volley e ieri è arrivata una notizia molto importante quella del tuo rinnovo fino al 2026 ormai una carriera che diventa molto lunga qui a Monza Sì, sono molto contenta diciamo che ormai ci ho fatto le radici qua e sono contenta che la società mi abbia dato un'ulteriore opportunità e sono contenta che possa dare ancora il mio contributo per questa società sono tanti gli anni che ho passato qua ne passerò ancora due per adesso quindi non potevo desiderare di meglio, devo essere sincera perché poi ci si sente un po' come a casa in una società in cui ti trovi bene in cui comunque gli obiettivi sono sempre molto ambiziosi Sì, sono fortunata per questo quando sono arrivata abbiamo costruito piano piano un percorso e adesso mi trovo al punto che giochiamo per vincere nel campionato italiano che secondo me è uno dei più difficili al mondo e questo è proprio top level e quindi tante ambizioni, tanti sacrifici ma ci si allena e si gioca per arrivare al vertice proprio Tante ambizioni che passano dalla partita di domenica anche perché quello è il big match perché voi e Conegliano in questa stagione siete le protagoniste non bisogna nascondersi e non lo nasconde nemmeno la classifica Sì, certo siamo lì lì, siamo a tre punti di distanza da loro quindi la partita di domenica sarà anche un po' un test match dove vedremo un po' a che livello siamo sicuramente abbiamo fatto tanti passi avanti rispetto all'inizio dell'anno rispetto alla Supercopa e questo si è visto partita dopo partita ci manca ancora un po' per arrivare a quei livelli alti che Conegliano, loro giocano da tanti anni insieme sono la stessa squadra da tanto quindi si conoscono a memoria hanno degli ingranaggi che ancora noi non abbiamo perfetti quindi ecco, sarà una prova per la Coppa Italia che poi ci sarà due settimane dopo E poi anche uno sguardo ai play-off perché bisogna già iniziare a proiettarsi in avanti e guardare anche al finale della stagione, Alessio Allora, io sono una un po' che guarda tanto al presente perché sono tante partite il calendario è veramente tosto e quindi se stai a guardare troppo in avanti ti perdi su quello che devi fare adesso quindi guardiamo partita dopo partita e poi quello che verrà si vedrà Allora, lo ricordiamo insieme l'appuntamento partita dopo partita beh, intanto c'è la partita quella con Conegliano domenica pomeriggio alle 17.30 sui nostri canali su Sky Sport Arena grazie Alessia grazie a voi ciao